Sciopero annunciato per il 5 giugno, a indirlo le segreterie regionali abruzzesi di Filcams, CGL, Fisaskat, Cisle e Will. Il tema è quello degli appalti scolastici. Il 29 maggio scorso si era svolto l'incontro con il Ministero dell'Istruzione e quello del Lavoro. Il problema nasce dal fatto che le imprese stanno, dal mio punto di vista, strumentalizzando il ritardo con cui il Ministero stanzia questi fondi concretamente e dell'Ini deriva che non riesce ad organizzare, le imprese non riescono ad organizzare il lavoro per questi 800 lavoratori che sono impegnati in Abruzzo, creando enormi disagi. E non rispettando nemmeno gli accordi sindacali che sono stati sottoscritti a livello nazionale, circa l'utilizzo della banca ore, la gestione delle ferie, la gestione degli orari, i rimborsi. Una proposta viene avanzata dai sindacati. Si parla di banca delle ore che garantirebbe salari ai lavoratori, da un lato e garanzia del servizio alle aziende che oggi temono ritardi nei pagamenti da parte del governo. E in più si è aggiunta una notizia degli ultimi giorni che proprio perché le aziende ritengono che non ci siano certezze di affidamento di risorse per la seconda tranche del 2015, sia dal primo luglio al 31 dicembre, diverse imprese stanno inviando ai lavoratori delle comunicazioni di sospensione del lavoro per i mesi di luglio-agosto. Che è una cosa irricevibile dal nostro punto di vista perché teniamo conto che questi lavoratori hanno dei contratti a tempo indeterminato.